Musica Benvenuti ragazzi io sono Gysius e oggi siamo su Airstone Ok la guglia è disponibile Ok mi sono appena svegliato e ho questa voce stupidissima Seriamente Comunque avventura Tra parentesi non so se ve l'ho già detto ma Dalla settimana prossima vorrei iniziare a fare le eroiche Ok è un suicidio lo ammetto Ho fatto l'eroica della lega degli esploratori ragazzi Infatti ho il dorso che adesso vedrete A giocare con Akharazan Ma ragazzi le eroiche sono veramente una cosa di indecente Veramente indecente Sembra una cosa semplice Signore Grazie Ombra di Aran La cima della torre E' un fantasma alquanto arrabbiato Potere error passivo Più 3 danni magici a ogni giocatore Wow Quindi decisamente qua bisogna usare un mago Ok caro mio Ah è giusto Palla di fuoco fa 6 Questa fa Sembra giusto Ok scusate mi sono appena svegliato Niente musica alta nella mia torre Cosa Ah ecco Aran Il bisbettico fantasma Ma che Beh già che ci siamo Mettiamo un altro danni magici 7 danni Io non sono un giullare qualunque Io sono Nira Saran E quindi Ok senti te speculare non ho paura E' contro incantissimo magari Neanche Duplicazione Vaporizzazione Cosa? E' nuovo questo E' un nuovo segreto del mago questo E' giusto Ci sono i danni magici a schifo Anche questo mi piace Rischiamo a 2 Finito Ah ma tutti i danni magici stamattina? I draghi hanno divorato l'intero buffet E ora stanno addocchiando i murloc No Povero muro Scusate Avete preso fuoco Ligiatras contro luce Aio Diamo fuoco alla magia Servo il signore del fuoco E' bellissimo ragazzi Quando vi capita una sfida con Medivu Veramente fantastica Oh Due effigi Perché sì Il padrone è potente Anche io ho dei poteri Allora devo spaventarmi Oh Lui ragazzi è un nuovo acquisto Tannos ragazzi è un nuovo acquisto In realtà Perché devo concreparmi tutti i servitori Scusate Avete preso fuoco No E quindi Abbiamo Favile L'ho trovato nella busta della rissa Ed è utilissimo Giuro Fantasticissimo E ci lanciamo Palle di fuoco vicino Povero Vintanus Che Yogg-san Ma Se non è contro Incantesimo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Ok Poverino Mi è spiaciuto Non è una Un'edicativa Intenzione Giusto il tempo Ok Gris battaglia Infine 3 danni Se controlli Un segreto Carta del mago Artes per indice A 2 attacco Finché hai un bonus Ai danni magici Ed è dello Non lo so Non penso sia dello E dello sciamano Forse Chi l'aveva usata Con la carta Mi pare l'avesse usato Lo sciamano Scaglia Fatua Governa Tutti i portali Di Karazhan Avremo bisogno Del suo dispositivo Di controllo L'abbia Fatua Proviamo un paladino Guarda io proprio Non c'entro niente Giuro La tua ricerca È bellissima Quei raggi potenziano Il drago Usate i servitori Per bloccarli Oh Caspita È molto interessante Ora io vedo anche Che Mr. Simpatia È immune Ah no Interrompe i flussi In pratica Se io faccio così Ok E così lui Ha furia Del vento Il che non è bello Avrei dovuto Pensarci prima Effettivamente Ok scusate ragazzi Sono lento Di comprenonio Mi sono appena svegliato Sorry Facciamo divertire I nostri Finito Non toccate i portali I modulatori di flusso Sono regolati Con precisione Ok Molto interessante Giustamente Sfriggio Vuole andare in face O vuole andare Dove vuole andare in face Decisamente Aio Nessuno può arrivare I nostri Senti Crescita rigogliosa Ok Io ho paura Che ineroica Questo tizio La festa Sembra divertente Raggiungetela Lasciate stare I miei portali C'ha ragione Povero Gli ospiti Stanno gettando I tomi Nella pozza di mano Ma puoi subire Ma puoi subire al máximo Un dano alla volta Spiegamelo Spera proprio nel culo Così Chi è che Torni Salve lei Cameriera Riaio E non ho scudo divino Su nessuno Peggio il barbo Il paladine Giusto può attaccare Due volte Ok Stai calmo Allora Sei solo morto Ora Se solo riuscissi a ricordarmi Come funziona Grido di battaglia Rivino un drago Sei un drago in mano Dragone di biblioteca Distrugge un servitore nemico Un attacco pari a 3 O inferiore Sei un drago in mano 3 inferiore Un po' come la carta del sacerdote Però questo Nera di dio Quella carta lì Ce l'abbiamo fatta Aprite il portale Libera Medivh E diamo inizio alla festa Ok Giusto per Ragazzi Ma Io gioco Medivh contro Medivh Perché voglio Veramente Vedere cosa si dicono Della serie Tu sei me No io sono te Scusate ma è una cosa da fare Ok 3B Ci siamo Nasra dominerà Questo ridicolo mondo Ops Portale sbagliato Sconfiggete l'orchessa Così potrò tentare di nuovo Stai scherzando? Non si può sbagliare Il vocale 1 E' una cosa No Non sono anche il suo potere No A 15 Mi dispiace Occupatevi di lei E sono certo che troverò Il comando giusto Ci crediamo Ragazzi Questa Nell'eroica Sarà almeno Un 30 E se Usa altre Cose strane E' una cosa schifosa Un giorno Sarò proprio come te Per mano nera Diamo sfogo Diamo sfogo alla magia Per mano nera Respingete l'orchessa Così potremo aprire Ho capito Grazie Non ci piace nemmeno Come lo ripeti Giusto Giusto Ok Ok C'è molto normale Meriv No Oh Occupati del demone Per favore Ho una festa Da seguire Ma io Tieni il mio bastone Controlla i portali Non rovinarlo Mi raccomando E' Eccolo La cattiveria La cattiveria Di questa mossa Ok Ok Ah ti esce Dove ho connecato la magia E' un servitore casuale Con lo stesso posto Ma perde un'integrità Molto bello Molto interessante Ah Lui rievoca Gli abissali Gli abissali Qualcosa di Insolito Carina questa qua Scusa What? No Non affronti solo Malkezar Ma tutte le legioni Al mio comando Va bene Va bene Va bene Botromet E i 6 strunz Poi Oh vabbè Dillo Cioè Cioè Lo prendo io Mi sta facendo malissimo Pure Pure Ecco Giustamente Direi Ma porca Migeria Va bene Abbiamo Abbiamo Fabi Di Benvenza Finito No Non avrai Pensato Di poter Vincere No Perché Mi stai Arando Alla grande Ok ragazzi I momenti Disperati Richiedono Mosce Disperate Inchinate Un Dio Della Morte Fra Provo Ira Sacra Inflige Danno A chi? A lui Vendente Il Suco Dell'anima Wow Scarica Elementale Wow Luce Nello Oscurita Cioè È andata Più bene Di quanto Pensassi In realtà Grazie Io Adesso Sei nei Guardi Vediamo Un po' Cosa fare Elementale Dell'acqua Mi è Inutile Servo Il Signore Nel Su Ok Sei in costume Potrebbe farmi gol Sono in costume Davvero? Au Si è andato face Fino adesso Dovevi proprio Farlo Ci sa mai che lei abbia un'arma Oh Vuoi lanciare una magia? Anch'io Oh Effigia Bella Accaniamoci contro poco Valkesar Perché si Ecco Poi Pesca due carte E fornisce Indice armatura Eh Pura La biguardia Ma sei Ah Ma non so C'è la prova Si attiva Ok Ok Un giorno Un giorno Sarà proprio Come te Smettila di distrarmi Quando muro Quando muro Avevo un senso Ragazzi Ragazzi Non finiva più Questo tizio No Non di nuovo Uff Limpi di Malchazar, portale forgiardente, ok, ok, non mi ne metto, ok Il tuo errore è a Mune nel tuo turno Principe Malchazar, all'inizio della partita mette 5 servitori leggendari che suoni nel tuo mazzo Equipaggia a Tiesh, Gran Bastone del Guardiano, Medivh il Guardiano E abbiamo due sfide di classe, che andremo a fare subito Ah, ok No, cosa fa? Cosa fanno la prossima settimana? No ragazzi, what? Ok ragazzi, scusate per l'interruzione, ma mi è crashato Camtasia Quello per registrare, non il foglio, non quello dove montare, ma quello per registrare E se non avesse una funzione di recovering Ero già nel pallone, ok? Però per fortuna ha una funzione di recovering dei dati Quindi, meno male Dobbiamo andare a fare le ultime due sfide di classe per oggi Ma, sono sicuro che da settimana prossima, beh, io inizierò anche prima in realtà Venditrice, ok, sì, che era quella che abbiamo usato prima Porta l'Era da Luna, ok Sono sicuro che, secondo me, la Blizzard è in mente qualcosa Per questo compleanno di Medivh Mi piacerebbe molto vedere cosa hanno in mente Non ne ho la minima idea Magari, non lo so, non lo so, non posso dire niente Non lo so neanche Comunque Come vi ho già detto, ho intenzione di fare le eroiche Di questa modalità qua Ma, non le registrerò in live Per esempio, adesso sono le 8.37 E questo video uscirà all'incirca per le 10 Ma le farò passo passo Nel senso che Sono molto difficili E richiedono Più di un tentativo Quindi non penso che le farò esattamente con voi Con la webcam Ma proprio registrando a caso Finché non riusciamo a far fuori i boss Perché se non avete provato un boss in eroica Fatelo E vi assicuro che cambierete idea Ecco Aran Il bisbettico fantasma Ehi, ehi Vuoi comprare Non uscire le loro Where's that guy? Non sono un giullare qualunque Io sono Nila Saran Ok, Nila Saran Finito Beh, non vedo il senso Di usare il potere eroe Della Della Pivot Però Si sa mai Ho lanciato la carta Eccola qua La simpaticissima Nove danni Proprio così A schifo Oh, eccolo lì Talon Un tango Un tango Cinque A tutti gli altri A tutti gli altri nemici Quindi anche io Mamma mia Che cazzo di vera Cerchi qualcosa di insolito Ok Finito Infatti come vedete Grazie a questa casa Dalle mie carte Costano Due meno E non è poco Le carte di arte classica Costano due meno Cioè non potevo Andargli meno Me l'aveva preso tre volte Me l'aveva Begli otto Danni magici Mi scusi Adesso metto giù Un po' di cose Funziona solo sulle menti Semplice Ah non gridi battaglia Di quella Fantastico Mi fa piacere La morte è servita La morte è servita Chi ti ha fatto Dimmi chi ti ha fatto Così lo vado a trovare Oddio che ho fatto Fermi tutti Che ho combinato Perfetto Stavo per fare Questa Che sei danni Proprio così A schifo Che ti ritornano In mano Non c'è Questo c'è Sì Questo c'è Siamo in base Allora Quel segreto Ormai Penso che Sappiamo tutti Di cosa Si tratta Bra 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 Si lei Era in base Però Noi facciamo Facciamo i sei danni Poi attacchiamo con lui Lui farà cinque A tutti No Era barile di ghiaccio Comunitissimo Che fosse Ancora un segreto Che fa cinque danni A tutti Out Poi out Non hai due Vero? Sono stato patuto Su un servitore Fa tredici What? Ok Abbiamo sventramento Che si fa Easy Come facendo così Da una pecola A un cinghiale Trista storia E sei morto E muori Muori Che è meglio E infine Abbiamo il druido Che ci dà il portale Una per una Malfurian Contro Scagliafattua Chi è che disturba La mia ricerca Devo proteggere La natura E quindi È basato Basano sulle bestie Questo mazzo Dovido Sì Non ho avuto a che fare Quei raggi Potenziano il drago Usate i servitori Per bloccarli Avevo intuito Grazie Questo mi ricorda Tanto l'armatura Giusto Furia da vento Furia da vento È una bella Presa Decisamente Ok ok Come dicete Dai Ah no What What Qualcuno mi spieghi Cosa sta succedendo Vi la do dopo Più due Prevocazione Ho bisogno di uno Dall'altra parte Perché adesso Li posso fare Solo uno Ora come ora Ok Adesso si ragiona un po' Un 5-4 Che può subire Solo un danno Non è male E che quando morirà Mi fornirà Un altro servitore Quindi non è male Per niente E ha deciso di non attaccare Mossa furgo Salve lei Sai che lei è la mia Carta preferita Allora Diamogli anche P3 saluto E Già che ci siamo Prego se si vuole schiantare A lei Lasciate Ok Ok Le altre 20 Così Così almeno Andiamo avanti Venite Ok No grazie Solo per sapere E adesso ragazzi Ammirerete Le fusioni In Airsten Guardate qui Druide dalle fiamme Che è una chimera E' bellissimo Questa cosa di Non lo sapevo Questa cosa di Stagelm Ma è bellissimo Fa le fusioni Portale era da luna Eccoci qua Ok E abbiamo finito Anche tutte le sfide di classe Ok ragazzi Direi che però Per oggi Ci fermiamo qua Se avete piaciuto Lasciate un commento Mettete un piacere Iscrivetevi Noi ci vediamo Molto probabilmente Venerdì prossimo Con la La prima Ala Ineroica In cui mi dovrò Seriamente impegnare Quindi Bella ragazzi